Sarò breve e non circoinciso ragazzi, ovviamente, sono dell'Inter, Barella va messo in tribuna la prossima partita. Barella, un giocatore in stato di grazia, però non può accanirsi contro i compagni. Lukaku ieri aveva una voglia di segnare clamorosa, Lukaku aveva una voglia di sfondare il mondo, ha cercato, ha sbagliato tanto, e ha fatto anche tante cose belle, perché io ho visto una squadra che aveva molto più profondità, l'Inter era giocato bene ragazzi, 25 occasioni da gol, e con Lukaku che dà più profondità, che attira più i difensori, comunque abbiamo avuto più conclusioni da fuori, a Cerbi due volte o tre volte, c'è la Noglu, eccetera, eccetera. Quindi deve smettere, l'anno scorso si accaniva con Danfris, e Danfris oltretutto ultimo arrivato con i piedi a roncola, poverino, eccetera, eccetera, durante la partita, si accaniva, addirittura è arrivato a non passargli la palla, io l'avevo notato, mi hanno dato per del pazzo e poi tutti poi mi diedero ragione. Per il resto, ieri, bravissimo Lukaku, non gli doveva dire ovviamente figlio di puttana, il labiale sembra che gli dica così, per il resto ragazzi, fatto bene a dire di stare zitto, in maniera composta, educata, se non fosse per quel figlio di puttana, però è giusto così, è giusto che Lukaku abbia zittito, quindi tutti Lukaku e Barella fuori squadra, mi dice anche il Grand Max, no, Barella va punito, o una multa, o piuttosto un confronto acceso, lo si prende, lì deve essere bravo l'allenatore, perché qui sento dire ieri è Inzaghi, vergogna, 0-0 con la Sampdoria, ci siamo mangiati l'immangiabile, che cazzo deve fare Inzaghi? Poi, se dobbiamo parlare di queste situazioni, borderline, dove c'entra e non c'entra il campo, c'entra e non c'entra, anzi c'entra il comportamento, lì il mister magari dovrebbe avere più pugno duro, quello sì, per il resto ragazzi, Barella in stato di grazia, on fire, e non è Pioli, però deve smetterla di sbracciare, di sbraitare, nei confronti dei compagni, perché gesti di rammarico, è giusto il gesto di rammarico, ma verso se stessi, non verso gli altri. Viva l'Inter, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, per me una multa o una partita in tribuna, però poi non bisogna portare musi, non bisogna fare piangina, poi bisogna rientrare come se nulla fosse accaduto, perché quello che succede in campo, rimane in campo. Iscrivetevi, viva l'Inter!